Questo è stato un anno sicuramente complicato per noi, abbiamo cambiato quattro volte l'allenatore, abbiamo avuto delle comunicazioni in società, il Covid, insomma, ci è successo un po' di tutto, abbiamo cambiato delle rispettive in corso, abbiamo dovuto fare le necessità di ritrovo, no, ci siamo fatti di dappure la giacchietta da antipoli, ci ha sparato un po' di carta addosso, in qualche modo è stato un momento fortissimo, spero che non si riguarda più, e lì abbiamo dato l'uscita a Tazzaretti, abbiamo nel mentre arruolato Stellone, nel mentre abbiamo avuto una gara con il mister della primavera Mascalo, lo spagnolo, post Covid abbiamo, dopo che Stellone appunto non ha avuto nessun tipo di impatto, dopo 5 gara ha fatto 2 punti, abbiamo dato l'uscita di Roma, lo spagnolo, ha fatto 2 gara, 0 punti in casa, abbiamo iniziato a correre la primavera Mascalo, facciamo dicenere a tutti, la primavera Mascalo, la primavera Masc 몰라, è un maestro, è un maestro?